Grazie a tutti 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 Assalte contro una manifestazione pacifica Non violenza 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 Non violenza! Il deciso messaggio della gente, questa era di voler fare una manifestazione pacifica. Ma che cazzo fai? Se questo era la nuova violenza è attiva. Ma non c'era nessuna violenza, era una manifestazione tranquilla. Non violenza! Non violenza! Non violenza! Non violenza! Non violenza! Ma che cazzo fai? Perché non violenza? Non violenza! Che cazzo fai? Prese 150 anni, no? Non violenza! Non violenza! Non violenza! Non violenza! Non violenza! Allora! Si, mani dai! Non violenza! Non violenza! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.